Allora, secondo fonti dei giornali israeliani proprio di ieri, ci sarebbe già una trattativa diretta tra Mosca e Kiev. È chiaro che in questo momento sia Putin sia Zelensky si trovano in situazioni particolarmente difficili, ciascuno ovviamente per quello che gli compete, cioè Putin sta portando avanti una guerra che pensava di poter chiudere in pochi giorni e invece si trova impantanato in Ucraina in una guerra che addirittura potrebbe essere una guerra che non potrà vincere, perché anche se dovesse conquistare diverse città, per esempio sulla costa del Mar Nero eccetera, c'è da chiedersi se tutto questo guadagno territoriale lui riuscirà anche a mantenerlo. In più ha tutta una serie di problemi, i morti tra i soldati russi, ha il problema di una figura internazionale che sta facendo lui e l'esercito russo che certo non è particolarmente onorevole, dal punto di vista dell'efficacia sul campo, oltre al fatto che naturalmente pesa la carnificina perché purtroppo ci sono tantissime vittime civili. Allora, Zelensky sappiamo quali sono i suoi problemi. A questo punto, giustamente diceva il generale Tricarico quali sono i termini della della questione. Il negoziato è inevitabile, non so fino a che punto gli attori internazionali possano favorirlo. O vogliano. La domanda successiva che ti faccio con un flash ti chiedo. Zelensky è formidabile sui social, cioè la battaglia sui social ha già vinta alla grande e continua a chiedere, quasi ad accusare l'Europa, la Nato non ci aiutate, non volete fare la no fly zone, ci dovete dare altre armi, altri equipaggiamenti e via dicendo. Molti si chiedono, ma questo presidente a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro rispetto, ovviamente, vista la situazione e la guerra nel suo paese, qualcuno si chiede, ma davanti alla carneficina, davanti al rischio di un escalation, come diceva il generale Tricarico, un presidente, un capo dello Stato come lui, no? Per il bene della propria popolazione, cosa dovrebbe fare o dire? Perché molti se lo chiedono, tu lo sai benissimo. Sì, però non dobbiamo cadere in questa tentazione di pensare che per il bene dell'Ucraina e degli ucraini Zelensky debba trattare, perché non è questo il punto. Il punto è che l'intero popolo ucraino, salvo ovviamente quelle parti che però sono assolutamente minoritarie, anche in quelle repubbliche separatiste, l'intero popolo ucraino sta resistendo e vuole combattere, vuole l'indipendenza, vuole la libertà, vuole l'Europa. Quindi noi non possiamo pensare che Zelensky ceda su questo. Ieri, anche quando ha detto io apro la trattativa, possiamo trattare, ha detto nello stesso tempo no, però nessuna capitolazione. Quindi ci sono alcuni punti fermi rispetto ai quali lui non può arretrare, perché sono gli ucraini che non arretrano. Io ho sentito anche tanti dibattiti televisivi in cui si dice, beh, però possiamo far sì che l'Ucraina sia neutrale, possiamo far sì che sia equidistante. Stiamo ragionando su un paese che è abitato da un popolo che ha scelto l'indipendenza. Questo noi non possiamo dimenticarlo. E infatti una delle ragioni per le quali Putin è intervenuto in Ucraina è perché dal suo punto di vista il virus della democrazia è pericoloso, perché può contagiare la Russia. Sì, ancora prima che la grande Russia, tutto quello di cui si è parlato, è che la democrazia fa paura. In realtà stiamo vedendo cosa sta succedendo a Mosca, nelle città russe. Scusami una cosa, sulla Cina, che dicevi prima, solo una cosa telegrafica. Devo fare vedere una cosa, sì. No, telegrafica. Sulla Cina, attenzione che la Cina continua ad attaccare gli Stati Uniti, ma ha un atteggiamento completamente diverso verso l'Europa, perché punta a un mondo multilaterale in cui l'Europa non è più schierata con gli Stati Uniti, ma considera anche l'importanza, soprattutto economica, della Cina.